Ciao ragazzi, buona giornata e bentornati nella mia serie dedicata al mondo delle zanzariere. In questa seconda puntata vi farò vedere come si monta la zanzariera verticale. La zanzariera verticale è la zanzariera diciamo base, è quella che è più semplice da montare, ci vogliono al massimo 10 minuti e anche quella più economica. Questo è un campione che vi ho fatto vedere l'altra volta, oggi però vi farò vedere come se ne monta una di quelle standard. Questa è una zanzariera che devo montare a casa di un cliente, tramite questo telaio che ho creato, oggi vi farò vedere il montaggio. Zanzariera che è larga 1,10 m e alta 1,60 m. La prima cosa da fare è chiaramente quella di prendere le misure. Di solito io utilizzo un metro laser perché è più preciso e anche più veloce. Se comunque non abbiamo a disposizione un metro laser, possiamo utilizzare un metro tradizionale. Però la misura l'andremo a prendere in due step. Questo perché? Perché se la prendiamo in questa maniera, come vedete nell'angolo si formerà una piega e non si riuscirà a prendere la misura in maniera perfetta. E visto che considerate che le misure per le zanzariere vanno prese larghezza a meno 3 mm, dobbiamo prendere le misure in questa maniera. Segniamo a 50 e poi andremo a prendere la seconda misura. Chiaramente poi aggiungeremo al 50 il rimanente. La misura dell'altezza? Chiaramente faremo la stessa identica cosa. La misura è alta, quindi posso fare anche 100. 100 più 60 e mezzo, quindi 160 e mezzo. In altezza possiamo togliere anche mezzo centimetro, quindi faremo 110, che è la larghezza, per 160, che è l'altezza. All'interno del pacco troveremo chiaramente il cassonetto, che comprende la molla, la frizione e il telo. Il telo va sempre posto alla parte esterna dal muro. Come vedete ci sarà compresa questa linguetta, che ha due buchi, in questi due buchi fisseremo la zanzariera, quindi il cassonetto al muro. Il muro sarà messo in questa posizione. Poi troveremo chiaramente le due guide e due tappi per il collegamento del fine corsa del telo. I tappi vanno collegati in questa maniera. Questa è la parte esterna. Come vedete questa linguetta è più lunga, serve per farci capire che il senso del tappo è giusto, perché se il tappo sarà posto in questa parte non appoggerà il muro e quindi la guida sarà tenuta staccata. La prima cosa da fare è fissare il cassonetto. Il cassonetto viene fissato tramite queste due linguette che sono poste ai lati del cassone. In queste due linguette troveremo due fori, quindi cosa faremo? Appoggeremo il cassonetto al soffitto e con una matita segneremo dove andremo a fare i fori. Ora vi faccio vedere. Una volta che vi ho fissato il cassonetto siamo pronti con l'ultima fase che è quella del fissaggio delle guide. Le guide vanno infilate nella posta sede che è posta sotto il cassonetto. Anche qui cosa faremo? Segneremo il punto dove andremo a forare, quindi segniamo prima con la matita, tutte e quattro i fori. Foriamo con il trapano a percussione, inseriamo i tasselli e poi siamo pronti per avvitare le guide. Una volta che anche le guide sono state fissate siamo pronti per testare la zanzariera. Come avete visto montare una zanzariera base, quindi una zanzariera verticale, ci vogliono meno di 10 minuti. È la zanzariera più semplice da montare. Settimana prossima vi farò vedere come si monta una zanzariera laterale. Le zanzariere laterali di solito si montano sulle porte finestre. Questa è la zanzariera che monteremo la settimana prossima. La comodità di questa zanzariera qual è? È che ha due maniglie, quindi una maniglie posta all'esterno e una all'interno. Questo serve chiaramente perché quando usciamo fuori sul balcone possiamo chiudere la zanzariera. In più, cos'ha di particolare questo modello? Questo modello ha di particolare il fatto che non ha una guida apposta per terra. Spero che vi iscriviate al canale, così ci vedremo la prossima settimana per il montaggio di questa favolosa zanzariera. Buona giornata!